Ciao, mi chiamo Fabio Zanasi e il mio progetto si intitola Ma dove corri, corri con me. La mia idea ha due obiettivi. Prima di tutto aiutare chi corre in città a trovare dei percorsi adatti. E questa è la parte, ma dove corri. E secondo, trovare compagni di corsa per chi desideri farlo. E questa è la parte, corri con me. L'idea mi è venuta perché a Modena ho visto spesso persone che fanno giochi in strada e penso tuttavia che per loro sia pericoloso dover correre tra le macchine, possa essere noioso per doversi fermare ai semafori e non tutti hanno la possibilità di andare a correre in un parco vicino a casa. Per cui ho pensato che si potrebbe rendere disponibile online la rete dei percorsi adatti a correre, possibilmente quelli protetti come le piste ciclabili o i marci a piedi larghi, dove le persone quindi possano correre ma anche passeggiare con tranquillità. Questa mappa dovrebbe essere interattiva e personalizzabile, così che ciascun corridore possa creare e condividere i propri percorsi. I circuiti consigliati dovrebbero poi essere identificabili a Modena, su strada, con un'apposita segnaletica, così come succede con le piste da fondo. E penso che potrebbe essere carino per le persone fare il check-in nei vari punti lunghi il percorso, così possono misurare la loro performance. L'altro aspetto dell'idea è correre in compagnia per chi lo vuole. Così come c'è il car sharing, si potrebbe creare un run sharing di Modena, c'è uno spazio social online dove chi vuole possa cercare compagni di corso e condividere la propria esperienza. Grazie. 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 Grazie.